Accordo non rispettato, il Comune di Scalea non ha pagato la seconda rata dei 300.000 euro che con scadenza 15 dicembre 2011 avrebbe dovuto versare alla geoambiente. E gli ex dipendenti della ditta che hanno gestito la raccolta dei rifiuti nel Comune Alto Tirrenico devono ancora ricevere parte delle mensilità arretrate. Una vicenda segnata anche da proteste e manifestazioni che non sembra avere fine, tanto che i consiglieri di opposizione hanno inviato al sindaco di Scalea Pasquale Basile un'interrogazione a risposta scritta per conoscere le motivazioni del mancato pagamento. La questione appare ancora più grave, scrivono Alessandro Bergamo, Palmiro Manco e Luigi De Luca, perché l'accordo aveva lo scopo di arrestare la richiesta di blocco cautelativo di pagamento già inoltrata. Inoltre, proseguono i consiglieri di minoranza, vogliamo sapere in che modo sono stati utilizzati i fondi comunali giacenti alle poste italiane dopo lo sblocco del pignoramento, fondi che erano stati impegnati proprio per pagare la geoambiente. L'accordo tra le parti, amministrazione comunale, ditta, lavoratori e CGL era stato stipulato lo scorso novembre. La prima rata è stata versata con puntualità, precisa a Dario Papaterra della CGL, a più di un mese dalla scadenza della seconda, ancora niente soldi e nessuna spiegazione dal sindaco. L'amministrazione si è chiusa in un preoccupante silenzio. Che il comune di Scalea abbia difficoltà economiche è cosa certa, non ci sono risorse, spiegano da via Plinio il Vecchio, non abbiamo liquidità di cassa. Inoltre, fino al 23 gennaio, l'ufficio di tesoreria è rimasto chiuso. Nel prossimo consiglio comunale daremo le risposte attese. Intanto il comune ha firmato il contratto con l'Avenire SRL, ditta che ha vinto la gara di appalto e che già da settembre gestisce i servizi di igiene ambientale. L'accordo ha permesso alla società pugliese di assumere a tempo indeterminato, a partire dal primo febbraio scorso, i 40 operai addetti alla raccolta dei rifiuti.